Ci sta il mais come zuppa, ci stanno le cipolle come zuppa, ci sta la zuppa di pinne di squalo, raga, calda, servita calda, distributore automatico in ciappone. Anzi eccoci qua e vi faccio vedere questa zuppa che è rara trovarla dentro i distributori automatici. Allora partiamo a presupposto che la quantità in sé per sé di pinne di squalo, non ci sono pinne di squalo all'interno, ma la zuppa è prodotta con una soluzione in polvere di pinne di squalo che rappresenta quella zona del lingolo 1%. Però è fatto anche per pubblicizzare la zona di produzione che è Kessen Numa, che si trova nella prefettura di Miyagi e fu colpita dallo tsunami 2011. Questa cittadina è famosissima in tutto il mondo, bene al male, per la pesca e la produzione di parti dello squalo su tutta la zuppa che poi ne viene, della pinna. Perché uno pensa che sia una cosa prettamente cinese, che lo è alla fine, perché fa parte della cultura cinese da non so quanti migliai di anni. Si parla che le famiglie imperiali la consumavano ed è rimasta come traduzione anche in Cina, in molte parti della Cina e dell'Asia, dove costa veramente un botto mangiare. Mangiate che un ristorante qua a Sendai vende questa zuppa a 3.000 yen, minimo, prendiamo di vendi 25 euro una ciotola di questa zuppa. Quindi è una cosa, quello, perché costa un botto. Una pinna di squalo arriva in Giappone a costare 10.000 yen, siamo su, fate voi adesso il cambio, su 70-80 euro, una semplice, una sola pinna. E questa cosa viene già, è stato già esposto a questo problema, perché la più grande produzione al mondo, tra i primi produttori al mondo di pinne di squalo c'è il Giappone. Ed è una cosa che io non mi sarei mai immaginato. Ma altrimenti è presente che solo nel 2009 sono stati pescati e portati nel porto di Cassinuma 35.000 tonnellate di squalo, è una quantità assurda. Questa cittadina c'è pure il museo dedicato allo squalo, perché la gran parte del business che ne gira intorno è basato su questa zuppa. Automaticamente per aumentare, dopo il casino che c'è stato con lo zonami, la distruzione di parte della città e la distruzione del mercato etico sullo squalo, hanno cercato di trovare altri modi per pubblicizzarsi, come di queste è creare una zuppa, in maniera che si potesse consumarla nel distributore, più atto in curiosità delle persone. E di solito in questo periodo invernale spunto su qualche distributore, però non so se a Tokyo mai la potete vedere una cosa del genere. Io la vado ad assaggiare, non ho mai consumato questa zuppa e lui dicevi, ma perché proprio di assaggiarla? Perché questa è fatta con la polvere, quindi è fatto anche con, non proprio con il prodotto in sé per sé, forse è stato aggiunto chimicamente pure, quindi diciamo, è anche perché a volte uno deve anche capire di cosa farla, né più né meno. E poi vi spiego anche il perché, secondo me, in piccola ricerca che ho fatto, a parte che vi lascio nella descrizione, il documentario di Gordon Ramsay, il grande chef, perché lui è come si ha combattuto una battaglia personale che ritiene il consumo delle piene di squalo totalmente inutile, secondo i suoi pareri non sanno di niente, quindi è fatto un abominio nel distruggere l'ecosistema marino, pescando squali senza menzenza. Infatti c'è stato con la pesca intensiva, che c'è stato non solo in Giappone ma in Cina in generale, tuttora c'è una pesca intensiva, perché molte volte il mercato Giappone dice, noi non solo utilizziamo le piene, ma utilizziamo tutto quanto le parti dell'animale, quindi lo squalo viene utilizzato in tutto il set per set, ma altre imbarcazioni, soprattutto il microdavonto viveva in Australia, venivano catturate le navi filippine o tailandesi che si avvicinavano in territorio australiano per pescare gli squali, quello che facevano? Tagliavano le piene, ributtavano le restate dell'animale in mare a morire di sanguare, quindi c'è un po' una forma di abominio, una forma di non rispetto, di atrocità. Ecco, per proprio questo non giustifica il fatto che anche se si consuma l'intero animale, non giustifica il fatto che è un animale in piedi di estinzione, come la balena in sé per sé, deve essere sottoposto a un regolamento sulla pesca, cioè bisogna cercare di non pescare in maniera assurda. Vi lascio in descrizione pure il video che ho dedicato, ci potete vedere come funziona in un mercato, come viene sezionata la balena, come viene venduta, vi faccio vedere un mercato vicino a Sendai che rende la carne di balena, e vi parliamo un po' anche di questa realtà qua, adesso bisogna capire anche le nuove notizie sulla balena perché il fatto che il Giappone vuole togliersi dal divieto e cominciare a pescare la balena regolarmente, quindi ci saranno dei casini enormi nei prossimi mesi, dipende quale convine marittimo invaderà, il paese risponderà, secondo me se lo fa in Australia potrebbero rischiare veramente uno scontro tra paesi, perché la Australia è disposta pure a sequestrare le imbarcazioni, cioè c'è la condanna nel carcere se si pesca in acqua e australiani senza delle regolamentazioni. L'odore di stock tipo maiale ed è una cosa che viene utilizzata, ho visto anche le ricette, ho visto anche nel documento che ho detto con il doname, si mi ha utilizzato la base di brodo di maiale per fare questa zuppa. Il zapore è strano che non riesco a capire, tipo, è vero, sembra che mi stoffa la zuppa con il dado. E c'è un retro gusto che ricorda il pesce. Ma molto labile com'è. In sé per sé il sapore non è malvagio, ma potrebbe esserci qualsiasi cosa qua dentro e prenderebbe il sapore di quello che è la zuppa in sé per sé, perché la zuppa in sé per sé è molto forte. Perché questa zuppa è famosa? Perché dentro le pinne dello squalo ci sta una presenza enorme di gelatina. La gelatina è un collante delle proteine. Nella ricerca che ho fatto io, il collagene fa in maniera che è molto presente nei tessuti, nelle ossa, nelle parti povere degli animali. Quindi, anche essendo una sostanza molto nutriente, apporta benefici assurdi all'organismo, perché migliora le funzioni immunitarie del corpo, nella salute delle ossa, quindi consumate secondo me anche da molte persone da una certa età, perché per la pelle, per le rughe, per la pelle pura, avanzamento nell'età, e la riparazione dei tessuti. Quindi sta cosa, sento che c'è dietro, sapete voi che c'è sta cosa che i cinesi sono molto fissati con la medicina, ma non quella l'ordinaria, tutta quella che fa parte della cultura vecchia giapponese, è fatta comunque di infusi, varie parti di altri animali essiccati, questa cosa del quale. Credo che la pinna di scuola sia arrivata in questo contesto, e non è che loro la consumano, pensate tanto per il sapore in sé per sé della zuppa, perché sinceramente, se questo è sapore, questo è sapore, se c'è nella mattina, sinceramente non ci viene niente di così, oh mio Dio, da spenderci un botto di soldi. E parliamo che a Londra costa 90 sterline, sta una cosa del genere, costa più di 100 euro una cosa del genere. Forse quel giappone la costa di meno qua a Sendai, perché Kassanuma sta un po' con monore a qualcosa, la Sendai, quindi è più facile reperirla, la materia prima, in sé per sé. Se no non ha senso non sono questi soldi, ma c'è un discorso a livello di salute, di quello che sono gli effetti di Tornacolo. Adesso dopo anni, dal disastro dello zonami, dall'economia in ripresa, non vi so dire quando realmente si è ripreso l'attività di pesca, ma sicuramente c'è, io vi lascio anche dei link che riferiscono alle nuove politiche della produzione, alcuni video, soprattutto il link che riguarda dei Guardian, vi lascerà un po' perplesso, perché il video fa vedere prima dell'asta proprio degli squali, vi fa vedere, tutta la lavorazione da un po' da un po' essenzio. Il discorso, ragazzi, qual è? L'ipolisittica ci c'è il discorso dell'estinzione di alcuni animali, e molte volte io ripeto che come si guarda la balena, come si guarda lo squalo o il delfino, perché questa a sua volta viene consumato in Giappone, in meno quantità ma viene consumato pure questo in Giappone, e non si guarda il tonno o altri animali che sono comunque in via d'estinzione, prima o poi si arriverà a quella situazione, perché non esiste che un animale di categoria A e un animale di categoria B, bisogna avere un buon senso di preservare alcune specie e non fare la mattanza, perché prima o poi meno i squali c'è il rischio che dentro questo nuovo secolo potrebbero scomparire. Secondo, Food and Agricultural Organization è solo quando riguarda ogni anno circa vengono uccisi 73 milioni di squali. Dovete scrivere che sia un'esagerazione sto numero? Comunque, anche se siano 7 milioni è una cifra comunque enorme secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, vi lascio due o tre link. Non so se riuscirò o mai andando a visitare perché non è proprio vicino a Sendai, però sono curioso di andare a visitare questa cittadina perché è l'unica ragazzi, è l'unica città in tutto il mondo del Giappone che produce carne, che utilizza lo squalo e ha il 90% della produzione di tutto il paese diciamo dipende da scuola e dicono che hanno un sistema per essiccarle che è uno dei migliori al mondo e questo la rende molto pregiata immaginate voi pensate voi uno pensa che uno di questi problemi sia un problema cinese e poi viene a scoprire che la produzione è di alta qualità fatta in Giappone ditemi la vostra io vi lascio chi lo sa un giorno forse riuscirò a fare pure un video più dettagliato vi farò vedere come funziona un ristorante di carne di balena sarà una cosa più alta ma alla fine come si dice però poi è informazione anche in una visione diversa di un paese in quale si vive nascondere non fare un video su una cosa non nascondere la realtà che questa cosa esista quindi io la vedo a questo punto di vista portarvi dentro alla realtà credo che vi renda partecipato anche di come sia un paese a 360 gradi questa è la mia opinione ragazzi un bacio un abbraccio ci vediamo su un altro video del Giappone fate bro